Ciao Claudio, ciao agli amici di Green Maps, io sono Riccardo Giorgio Frega, sono il segretario dell'associazione Radicali Enzo Tortora, i Radicali di Milano, sono molto contento di averte incontrato qui al Salone Internazionale della Cannabis, volevo parlarti e parlare a tutti voi dell'iniziativa antiproibizionista di Radicali Italiani che si chiama WeDo, con i Radicali, con Marco Cappato e con l'associazione Luca Coscioni abbiamo raccolto più di 70.000 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per una legalizzazione, la proposta nasce ed è stata depositata da anni ed è inascoltata al Parlamento italiano, questa è una petizione per chiedere ai parlamentari della Repubblica Italiana di ascoltare la Costituzione e di discutere la proposta di legge per cui tanti cittadini hanno firmato. Noi siamo i Radicali di Milano, facciamo un sacco di iniziative legate all'antiproibizionismo, legate al diritto alla scienza ma anche legate ai problemi territoriali della città di Milano, siamo l'associazione Radicali Enzo Tortora, se volete attivarvi per darci una mano a legalizzare la cannabis in Italia, a fare iniziative per fare conoscere il fatto che una proposta di legge già c'è in Parlamento, deve solo essere discussa, potete attivarvi contattandoci sul sito radicalimilano.it oppure scrivendo alla mail radicalimilano.com, organizzeremo banchetti, iniziative, flashmob, stiamo creando una rete fra tutti gli operatori del settore in modo tale che uniti riusciremo a imporre alla politica italiana quello di creare un nuovo settore industriale, una nuova opportunità di ricchezza per il paese che è a crescita a zero e questa si chiama legalizzazione. Andate sul sito legalizziamo.it per leggere i dettagli della proposta di legge, è una piena legalizzazione, andate a leggerla, è una bella legge e facciamo tutte pressione affinché questa legge diventi realtà. Potete firmare l'appello WeDo sul sito cannabis.radicali.it Ragazzi, è una cosa importante, ci vediamo! Grazie! 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 Grazie!